Buonasera, mi sembra corretto in una giornata importante, come quella dell'avvio della prenotazione sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, almeno per chi ha più di 80 anni, fare il punto della situazione, su come la giornata si è articolata e su quali sono gli obiettivi della campagna vaccinale nelle prossime giornate e nelle prossime settimane. Ma partiamo da una notizia che fa piacere e cioè il bollettino della giornata, quello che tanti utenti della rete continuano giustamente a cercare per avere informazioni e comprendere come l'epidemia si muova sul territorio della nostra regione. Nella giornata di ieri noi abbiamo potuto fare circa 22.500 tamponi, di questi quasi 15.000 dalle attività di screening dai tamponi rapidi e gli altri come tamponi molecolari. Hanno evidenziato 478 casi positivi. Non preoccupiamoci molto di questo dato che sembra così decrescente rispetto ai giorni scorsi. Sapete bene e meglio di me che in tutta Italia, quando si viene dal sabato e dalla domenica, il lunedì i risultati tendono ad essere un po' calanti. Però ormai da molte settimane, anche grazie alle misure che il presidente Musumeci ha voluto, si inizia ad avvertire una regressione tanto dei ricoveri quanto del numero complessivo dei soggetti positivi. E sapete che quel numerino, l'RT, che ogni venerdì fa attribuire alle regioni, se sono in zona rossa, giallo, arancione, in Sicilia oramai sembra essere un po' più contenuto. Le terapie intensive oggi vedono 181 cittadini ricoverati. Sono tre in più di ieri, ma il livello continua ad essere quello di una curva piatta per le terapie intensive ormai da molti giorni ed i ricoverati nel totale sono 1.373, quindi con un ulteriore decremento rispetto a ieri. Prima che si avviasse la zona rossa i ricoverati si avvicinavano quasi a 1.700, quindi da questo punto di vista un miglioramento, penso, si noti. È un miglioramento che non ci deve fare dimenticare che il coronavirus esiste, che le varianti in tutta Italia e in tutta Europa iniziano a circolare sempre di più e che quindi quando si ritiene che si possa fare a meno o dell'utilizzo di una mascherina o della necessità di limitare un minimo la propria vita, non ci si rende conto che è un attimo a ritornare di nuovo in una condizione di diffusione maggiore del contagio. E noi invece questo non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo permettere. Per due ragioni, perché le nostre imprese, le attività commerciali che vedono un minimo di ripresa in questi giorni devono essere protette dai comportamenti individuali, così come devono essere protetti dai comportamenti individuali le strutture sanitarie che sono state nei mesi scorsi molto sotto pressione e poi per un'altra ragione quella importante, quella del motivo per cui ho ritenuto giusto fare un momento di confronto in diretta dai canali della regione siciliana e cioè il vero avvio della campagna vaccinale. Oggi si è iniziato con la possibilità di pre-registrare i cittadini con più di 80 anni, mentre io parlo vedrete anche di qui a qualche istante un tutorial, un video che spiega bene come si utilizza questa piattaforma che abbiamo voluto insieme a Poste Italiane, prima regione la Sicilia dove questo progetto nazionale si è potuto mettere in campo. E oggi voglio fare i complimenti anche al team di Poste Italiane, è stata una bella giornata di lancio di questa campagna per gli over 80 che mentre noi stiamo parlando ha già visto superati i 40.000 cittadini con più di 80 anni che dall'agenda hanno potuto prenotare il proprio vaccino e quindi un risultato che fa ben sperare sia come volontà di aderire alla campagna vaccinale sia come efficienza del sistema a cui abbiamo lavorato in questi giorni per favorire la prenotazione. Ci si va dal sito internet della regione o dal sito siciliacoronavirus.it ed è molto intuitivo, basta inserire la propria tessera sanitaria in corso di validità e il proprio codice fiscale e se si è un cittadino siciliano di età grafica fino alla classe 1941 si potrà essere immediatamente riconosciuti dal sistema informatico e si potrà scegliere nelle diverse sedi vaccinali dove si preferisce andare prenotando la data in base alla disponibilità e la fascia di orario. Ci piacerebbe fare migliaia di vaccini al giorno, le forniture attuali ci consentono per gli over 80 di poterne fare circa 6.000 al giorno. Ovviamente speriamo, ma vedete le televisioni inondate di questa richiesta di vaccini in tutta Italia, in tutta Europa, ma direi in ogni parte del mondo, e siamo molto confidenti che nelle prossime settimane, dopo il mese di febbraio, si possa aumentare ancora di più con la dotazione per fare presto. La prima fase dei vaccini, quella che doveva impegnare i primi tre mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo, ci deve auspicabilmente portare a coprire tutta la popolazione con più di 80 anni. E lo strumento utilizzato per la prenotazione sia il portale dove sono state effettuate il 97% delle prenotazioni fino ad oggi. Sia il call center, che ha bisogno forse di essere un attimino rafforzato e stiamo lavorando in questo senso, ma ha visto quasi il 3% delle prenotazioni effettuate e completate in maniera regolare, sono i due primi strumenti, call center e portale, per la registrazione. Accanto ad essi, con poste, si è lavorato un sistema che per la fase successiva della campagna, quando la vaccinazione sarà di massa, consentirà la prenotazione anche in tutti gli uffici postali. Noi coinvolgeremo i medici di medicina generale e le farmacie in maniera tale da avere quanto più diffusa e quanto più facile, soprattutto, l'accessibilità alla registrazione. Noi siamo ottimisti e il mese di febbraio ci vedrà non soltanto far procedere la campagna di vaccinazione con gli over 80, ma anche con l'ulteriore vaccino, quello di AstraZeneca, che in Sicilia arriverà domani e che per ora è riservato a una popolazione di età inferiore ai 55 anni, popolazione che vede principalmente diretta la vaccinazione ad alcune categorie più rappresentative. Le persone che svolgono servizi essenziali, forze dell'ordine, forze armate, vigili urbani, gli insegnanti per garantire la sicurezza dei ragazzi all'interno della scuola e ovviamente tutti coloro che svolgono per la pubblica amministrazione, per la protezione civile nell'ambito del volontariato, delle attività che possano essere qualificate come servizi essenziali. Stiamo ragionando con tutte le regioni italiane, domani è stata convocata una riunione perché ondevitare il fenomeno, chiamiamolo, degli errori di classificazione che pure ci sono stati all'inizio, o anche qualche furbetto di troppo, perché non dirlo, che mentre noi correvamo affatto vergognare la Sicilia e di questo ci siamo tutti profondamente rammaricati, stiamo decidendo per questa fase con AstraZeneca di partire in maniera uguale in tutte le regioni italiane con le stesse categorie e quindi domani in questa riunione lavoreremo in questo senso. Il mio compito sarà quello ovviamente di aggiornarvi, intanto un grazie a tutti i nipoti che hanno aiutato i nonni, ne conosco tantissimi a fare la registrazione, il coronavirus ci sta spingendo verso l'innovazione digitale, è un tema che in sanità è fondamentale perché se ancora oggi esiste un grande problema è quello di avvicinare il più possibile il sistema sanitario a tutti i cittadini siciliani e italiani. Vi terremo aggiornati.